Diamo valore al vostro raccolto. È iniziata una grande sfida per l'agricoltura piemontese. È nato il progetto Gran Piemonte, che consiste in una filiera di frumento tenero che nasce da un progetto di Coldiretti Piemonte, sviluppato in collaborazione con Cap Nord-Ovest ed è riservato a tutti gli agricoltori dell'intero territorio piemontese. Una grande opportunità per le aziende cerealicole, che potranno migliorare la loro prospettiva di reddito, grazie alle importanti premialità previste dai contratti rispetto alle quotazioni in borsa. Per la prima volta la miscela di frumento scaturisce sin dal raccolto in campo, che verrà seminato utilizzando un miscuglio innovativo di sementi certificate denominato Miscuglio Gran Piemonte, in vendita esclusivamente presso le agenzie di Cap Nord-Ovest. Facendo tesoro delle esperienze sviluppate nell'ultimo ventennio con un sempre crescente gruppo di agricoltori del Cuneese, a cui si è affiancato nell'ultimo quinquennio un importante progetto sviluppato con gli agricoltori alessandrini, si è preso spunto da quanto già patrimonio aziendale, nell'interesse di tutta l'agricoltura cerealicola piemontese. La totalità della produzione servirà per produrre prodotti da forno made in Piemonte. Il Cap Nord-Ovest è orgoglioso di partecipare attivamente a questo progetto, con tutti i suoi punti di ritiro, con le agenzie e con i propri tecnici, per raggiungere questo traguardo. Se sei interessato a cogliere questa opportunità, vieni a trovarci nel nostro punto vendita più vicino. Saremo lieti di spiegarti il progetto e seguirti dalla semina a raccolto. Grazie a tutti!